buongiorno benvenuti nel mio canale in un precedente articolo abbiamo visto come inserire immagini dentro un testo di questo articolo ho anche pubblicato un video e adesso facciamo un passo ulteriore e vedremo come inserire un video dentro un testo non utilizzeremo ovviamente Photoshop ma utilizzeremo DaVinci Resolve questo è DaVinci Resolve andiamo su New Project il progetto lo chiamiamo video dentro testo si va su create e si apre l'interfaccia di DaVinci Resolve andiamo direttamente sulla scheda sulla pagina edit o scheda edit qui sulla media pool trasciniamo sia il video da mettere dentro il testo sia il video da usare come come sfondo in questo caso scegliamo questi due video andiamo sul change per uniformare di frame rate di DaVinci Resolve con quello dei video dunque useremo questo video per inserirlo dentro un testo mentre useremo quest'altro video per come come sfondo dunque trasciniamo il video da inserire dentro un testo nella timeline è un po lungo quindi accorciamolo che di parecchio basta una quindicina di secondi così basta dunque selezioniamo questo video e andiamo nella scheda fusion nella scheda fusion come vedete c'è come sempre la media in e media out andiamo nella parte iniziale del collegamento tra media in e media out destro del mouse a tool e andiamo su transform transform e verrà aggiunto un nuovo modulo transform cliccando su questo modulo trasformo che potremmo impostare la dimensione del del video e il posizionamento che possiamo aumentarlo così poi possiamo anche centrarlo spostarlo orizzontalmente o spostarlo verticalmente quindi possiamo scegliere la posizione in cui il video sia poi visto nel all'interno del del testo poi andiamo ancora qui con il destro del mouse sulla parte iniziale del collegamento tra trasforma in media out e andiamo su a tu scegliamo matt che sarebbe una specie di opacità quindi su met controllo e abbiamo a questo punto abbiamo appunto aggiunto questo nuovo modulo sempre nel scheda fusion magari possiamo un po abbassare tutto qua a questo punto bisogna inserire il testo ci si clicca sopra il testo e si porta qua sopra a match control si seleziona il testo si mette la punta qua su let view per visualizzare il testo nel player di sinistra let view qui abbiamo visualizzato il testo qui visualizziamo il testo chiaramente il testo dovrà essere digitato queste sono meduse mi sembrano sembrano meduse e allora digitiamo meduse nel deserto lo mettiamo su due su due righe questo testo ovviamente possiamo scegliere il font io preferirei scegliere un font grande tipo impact eccolo qua in modo che sia piuttosto raccolto come vedete qui in impact c'è solo regola non c'è il bold e possiamo aumentare il size per prendere tutto lo spazio dello schermo qui possiamo andare anche qua oppure andare direttamente sul pulsore ecco fatto dopo aver selezionato il modulo del testo andiamo qua su layout e qui possiamo impostare possiamo modificare ancora la posizione per esempio qua come vedete si può scegliere la posizione secondo le x o secondo le y quindi si può centrare oppure anche non centrarlo si può scegliere la posizione che ci vale qui con center z si può anche aumentare o diminuire lo zoom a questo punto si collega il testo l'output del testo con l'input di mat control si va così e si collega ecco fatto poi si seleziona il mat control in questo modo e quindi su inspector vedremo tutte le opzioni del mat control qui su appunto il mat control sulla sezione mat control andiamo su combine e scegliamo combine alpha per la trasparenza qui in copy scegliamo substrat per la sottrazione e qui in basso ci andiamo su invert mat per invertire e poi mettiamo la spunta qui a questa opzione per le immagini multiple ecco come vedete adesso il video è visibile soltanto all'interno del testo possiamo anche fare una operazione ulteriore andiamo sempre qua nella prima parte dell'unione del legame tra il mat control e il media out andiamo sul destro del mouse add tool color e scegliamo l'opzione brightness contrast per settare la luminosità e il contrasto come vedete qua in ispetto stavolta visto che è selezionato questo modulo potremo utilizzare questi parametri per poterlo modificare per esempio aumentiamo gain la luminosità ecco qua possiamo aumentare volendo anche il contrasto questa è la luminosità insomma possiamo settare l'impostazione che vogliamo di questo video a questo punto possiamo tornare su la pagina edit e come vedete questo è il risultato si vede il testo si vede il video all'interno del testo chiaramente noi però vogliamo mettere questo video questo testo sopra un altro video quindi che facciamo spostiamo nella parte superiore nella nella traccia superiore il video all'interno del testo e nella traccia inferiore spostiamo il video che farà trasfondo in questo modo questo è più lungo quindi lo diminuiamo e questa come vedete è l'anteprima con meduse nel deserto un testo che viene un video che viene mostrato all'interno di un testo e che poi chiaramente può essere utilizzato come ci pare io l'ho usato con un altro testo di sfondo ma possiamo anche utilizzarlo in maniera diversa per esempio possiamo torniamo su fusion possiamo aumentare di parecchio la gain e contrasto per esempio torniamo su edit possiamo magari togliere questo e magari aggiungere quest'altro come vedete è un ora chiaramente questo è molto più lungo blade si divide selezione dentro del mouse cut come vedete in questo modo il testo è inserito direttamente su un si vede chiaramente perché l'abbiamo schiarito e quindi è inserito in questo modo con il video sottostante è una situazione secondo me che può essere utile in certi casi dunque non è mi sembra neppure troppo difficile usare questa tecnica per mostrare un video all'interno del testo che poi questo video all'interno del testo può essere usato anche nello stesso video per mostrare il testo in maniera diversa oppure può essere usato in un altro video per avere un testo che contiene al suo interno un video completamente diverso anche analogo a quello che è sottostante che funziona da sfondo chi usa già da vinci lo sa già ma per chi non lo sa per esportare un video si va su deliver qui si mette un nome si fa che so meluse qui si scede formato si va su add to render queue dunque questo viene aggiunto qua nella finestra dei job si va su start render e si attende la fine della esportazione del video e questo è tutto alla prossima volta